Eeeh, what's up a tutti surma e benvenuti raggiungerini in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con un like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete al prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, le chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando, spolliciate Ed eccoci qua, di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa alla fine tutto il gruppo appunto era riuscito a fuggire fino al motel E poi ci hanno fatto fare un salto temporale della bellezza di tre mesi Dopo però averci fatto vedere che purtroppo all'interno del gruppo ragazzi già si stavano creando delle tensioni Tensioni che appunto col passare del tempo sono purtroppo cresciute In quanto ovviamente hanno iniziato ad avere davvero poca scorta di cibo E questo fa sì che fra i vari membri del gruppo appunto si creino ragazzi anche delle incomprensioni, della rabbia e tutto il resto appresso Fatto sta che si è aggiunto anche un nuovo membro al gruppo dopo che Glenn ci aveva lasciato E abbiamo conosciuto degli sconosciuti, scusate il gioco di parole Uno dei quali però è morto e quindi abbiamo alla fine saputo che sono tutti quanti infetti Indipendentemente dai morsi o cose simili Alla fine ragazzi sono arrivati fino al motel due individui che ci hanno offerto di portarci alla loro fattoria in cambio di benzina E ci hanno detto che da loro c'è sicurezza, c'è tanto cibo e quindi ci hanno fatto delle belle promesse Però come vi dicevo la volta scorsa ragazzi a me la cosa puzza non poco Uno ragazzi non vorrebbe essere malfidato ma in situazioni del genere fidarsi è bene, non fidarsi è meglio E quindi c'eravamo lasciati qui Sì, il recinto elettrificato, così avevamo detto Beh sì dai, abbastanza da fermare chiunque ci si avvicini Allora, mai avuto incidenti? Fine, I saw y'all with company coming down the drive Guys, this is our mama I'm Brenda St. John and welcome to the St. John Derry This here's Lee, he's been living down at the old motel, round the way They got a few more friends staying at the old motel Oh my goodness, that place is pretty vulnerable Have you got someone with survival experience to lead your group? Lavoriamo insieme We all work together Plus we've got plenty of people with military experience Well, that's good to hear That motel ain't the safest place Now that y'all are here We'll make sure you're safe and comfortable Quelle offerte applicabile a tutti Does that offer apply to the rest of us? We're all incredibly hungry These are for y'all Bake fresh this morning Amazing Can't get stuff like that anymore Not without a cow for milk and butter, that's for sure That's right Hopefully Maybelle will make it through this bout of Whatever she's got and be with us for a good long while Your cow is sick? What's she? We have a vet, we could bring her here We can help you folks out A vet? Oh my, our prayers have been answered Maybe our whole group could come For the day Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner A big feast for all you hungry souls It'll be nice to have some folks to help out around here again Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip over here? Might want to take someone with you Remember, those roads can be dangerous I can handle myself Take this Why don't you go ahead and take Ben and Marley? Take care of yourself, Lee See you in a while Ok Mai andare solo Cioè, penso sia meglio andare in compagnia Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence Before they fry and end up knocking over a post It'd be a big help if you could walk the perimeter You can learn a little something about our fence I'm gonna go top off the generator before they run dry Come get me when you're ready You betcha This place is incredible It's got food And that fence? Oh man, that fence If we play our cards right This might turn out to be a place we can stay So how do you want to play this? Allora ragazzi, a me Continuo a non convincermi tutto ciò Sembra troppo bello per essere vero, no? E poi, non lo so Cioè, in base a cosa questi dovrebbero prendersi un gruppo di così tante persone da sfamare, tra l'altro Ok? Più si è, meglio è Più difesa Tutto quello che volete, ragazzi Però, non lo so Assicuriamoci che questo posto sia sicuro Prima di pensare di portare il nostro gruppo qui qui per rimanere, bisogna trovare se questo posto sia sicuro che ci stanno dicendo Sì, ovviamente pensano sia sicuro Ma è sicuro sufficiente per i bambini? Ho notato un spazio di spazio over there Non è un grande problema, ma magari ci sono altre cose che non funzionano che non possiamo vedere Ok, con bambini di spazio over there Ok, con bambini Non pensavo mi chiedesse già se avessi informazioni Sì, ho appena entrato Guardiamo la staccionata Sembra abbastanza solida Così sembrerebbe Parliamo con Andy, allora Vediamo che ha da dirci Ciao 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 Possiamo aiutare a protett... Quanti armi avete? Aspetta Loro ce le hanno? Quali tipo di protezione avete? Ah, ne hanno molte Ok Ok and we're inside the perimeter, the fence is all we need to keep us safe. The recinto ferma the erranti, even though he has already said it. Ok, sembra abbastanza sicuro della sicurezza della sua fattoria. Siamo i vostri primi ospiti? Ok, quindi altre persone appunto hanno vissuto la fattoria ma poi a quanto pare sono andate via per cercare persone perse e robe simili. Va bene, andiamo a riparare sto perimetro allora. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about three or four seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough? Stay attentive. You never know. Ok, faremo attenzione. Quindi bisogna soltanto sganciare i corpi dal recinto. Va bene. Sembra tutto fin troppo tranquillo, ragazzi, non lo so. C'è una brutta sensazione. Is it safe enough for us to stay? If we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. It wouldn't be such a pain in the ass if you weren't telling him we were talking behind his back all the time. I'm sorry, ok? Qualche modo faremo. Che dobbiamo fare. Well, hopefully he'll calm down once he's out here. Ah, che schifo! Si mangiano le carcasse. Ecco. Bello fritto, eh? Beh, oddio. Più morto di così si muore. Oh, scusate il giro di parole. Beh, di sicuro già era zombie, no? La freccia la possiamo prendere? Ah, era bloccato proprio, era bloccato, quindi avremmo dovuto comunque sbloccarlo. Luce. Andy ha detto che quando questa fence funziona, i walkers si subono come un bianco su una linea di potenza. Se queste luci sono fuori, questo significa che la fence è fuori, certo? Sì, di regola sì, di regola sì. Ok, vabbè, spingiamolo via, ragazzi. Via. Eh, un sogno. È inutile senza benzina però, eh? Mh, in effetti. Oddio, in che senso? Cosa vuol dire? Non lo so. Si sembra abbastanza decente. Io solo voglio sapere che ho la tua torta, se qualcosa si subito. È tutto. Grazie. E' un altro. Vabbè, è incoraggiante questo, ovvio. Facciamo parte dello stesso gruppo, se non possiamo fidarci fra di noi, vabbè, spingiamolo via. Oh, cavolo, è rimasto impigliato. Colpiamo prima questa mano e poi quest'altra mano. Credo proprio di no. Le mani lasciamo lì. Ho fame anch'io, cara. Così pare. Ammazza, questa ha sfondato proprio tutto, eh? Questa, questa, dovrebbe essere riuscita per cercare di riuscire. L'abbia accettato in là, è abbastanza bene. Vabbè, aiutami a riuscire a riuscire in giro, per cui possiamo riuscire il Mr. Crispy. Credo che avesserebbe meglio di riuscire dall'altra parte. Buona idea. Ok. Aspetta che ti do una manina. Ma lo solleviamo prima? Sì, sì, sì. Aspetta, eh? Mamma mia, come sei impigliato. Mr. Crispy. Oh, shit! Oh, shit! What the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Ah! What the? What the fuck is that? What the fuck is that? Jesus! The fence on that gate is the only way out! Ma... 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 Ma povero Mark! Ok, lo dobbiamo usare come scudo, ragazzi. Non possiamo spingerlo? Aspetta, devo sbloccare qualcosa. Oh, vai giù. Devo sbloccare. Ah, ecco. Ecco, ecco, ecco. Via! Piano, piano, piano. Adesso posso spingerlo, mi auguro. Si può? No? Minchia, è bloccato ancora. Che palle! Dov'è che è incastrato? Ah, la leva, la leva. Ecco, ecco. Ok. Va bene. Va bene. Eh... Sì, 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 sì. Oddio, hanno aff... Evidentemente hanno fatto affari con questi ragazzi, ma non li hanno rispettati. Così sembra da quello che stanno dicendo questi tizi. Oddio. Oddio, no! Pure il cadavere. Come cavolo lo spostiamo? E via. Ma già, eh. Ok. Eh, smettetela di sparare, madonna santa! Ecco un altro. Troppi. Cioè, non sembrava... No, vabbè. Due, tre. Eravamo al terzo. No, pure! Oddio! Oddio, schiacciagli la testa! Schiacciagli! Non mi guardano! No, 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 no! Ah! Ebbene! Sì, guarda, benissimo! Oddio, no! Oddio, no! Ci raggiungi, ci raggiungi! Oddio, corri! Corri, vai, 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 vai! Ah! No! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ma sono morta malissimo! E niente, devo cercare il campo più veloce, ma più veloce di come sono andata mi sa che non mi faceva andare, ragazzi. Ci mancava pure il morto, porca miseria! Su, 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 su! Su, 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 su! Veloce, 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 veloce! No, non mi farò prendere stavolta, eh! No, 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 no! Muoviti, muoviti, muoviti! Uffa! Che ansia di tutto! Gli altri non potranno manco arrivare. Comunque ci dovrai dare una spiegazione, caro. Perché hai acceso i ricinti? Si è acceso il ricinto! Quanti sono stati! Si è molto aperto! Che cosa sta! Che cosa sta? Cosa. La mia scelta! È un belissimo! Conchè, mi sono senti! Cosa cosa è fatto, amore? Cosa! 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 Come sono arrivati? Non cominciare Beh non l'avete rispettato mi sa E' stata una cosa fortuita Oh god Bandits? Are you serious? This place isn't safe, we can't stay here Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay Take this place over if we have to Oh cool your jets there Rambo These are nice people Let's not do anything to get us thrown out before we eat I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone Well that's easy I got charm coming out of my ass Yeah That's real charming dad Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us She volunteered to stay behind and watch the motor inn until we get back Ok Capito I remember seeing kids in your group so I went ahead and fixed that swing while you were out Hope your kids like swings Ah, I love swings Ah, I love swings Just like at my treehouse Come on, Doc Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah Thanks Anytime We're looking out for you Ok, non li avevo visti i bambini Nel momento concitato non me ne ero accorta Comunque Ah, meno male Oh, sto posto è sicuro Wow Fantastico Incredibile L'attimo che rimaniamo chiusi fuori Mark viene quasi ucciso da una freccia Porca paletta Ok, allora non ci resta che... Che cosa c'è qua? Vabbè, qua ci sono delle assi di legno Niente di interessante Direi di andare a parlare col tizio E andare a perlustrare sto posto Ovviamente ci tocca a noi Chissà perché non mi stupisce FELLAS Come ti senti? Vabbè Va bene Eh sì Siamo pronti Andiamo Che il cielo ce la man di buona ragazzi Per vendicarci Per vendicarci Ok, sì 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 Sì, sono d'accordo Ma non sarebbe meglio a sto punto Farci i fatti nostri Per caso Ciao Clem, ci vediamo dopo Oh, forse avrei potuto salutarla prima Non ci ho minimamente pensato Come va ad esserne così sicuro? Ci sono stati evidentemente Spero non ci colgano di sorpresa loro ragazzi Che informazioni riusciamo a... Ad ottenere Guardando così e basta Temo che ci dovremmo avvicinare ragazzi Purtroppo Avvicinati il viso Piatto all'accampamento A me sembra non ci sia nessuno Sembra Io direi sta in guardia va Non si sa mai Lui prende e va Ok Abbiamo dato per scontato che davvero non ci sia nessuno Magari c'è qualcuno nella tenda Cosa C'è qualcuno? Ok, allora, guardiamo un po' queste bottiglie. Poco fa. Ok. Queste scatole. Tanica di benzina. Niente, è vuota. Non possiamo ricavarci una mazza. Vediamo un po' dentro queste scatole, ragazzi. Scommetto niente di utile. Solo alcune lattine vuote. Ok. Qua dietro? Cosa c'è qua dietro? Stato la perillata. Ah. Probabilmente la comida che ci siamo dato. C'è un po' dentro il carretto. C'è un po' dentro il carretto. E' vuoto anche questo. Ma non è che questa gente se n'è andata per qualche motivo. Non è sconosciuto. Vediamo in questa cassa. Cosa c'è un po' dentro il carretto. Niente. 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 Quest'altra scatola. Cosa c'è un po' dentro il carretto. Ma non è sconosciuto. Una mazza. Cosa c'è un po' dentro il carretto. 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 Cosa c'è un po' dentro. Cosa c'è un po' dentro. Cosa c'è? Cosa c'è? You It's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. Oh It's a hell of a lot safer up here than down there you best believe now Maybe you didn't hear me last time when I asked you sweet put your damn guns down You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice soft arrow right through your eyeball and into your goddamn brain You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of bean. Take a little girl. Take a little girl. It's not the fucking same to you. Where did you get this hat? A little girl? You stole it from her. So what if I did? You stole it from me. Eh? In che senso? What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm going to head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Look, there's two of us and one of you. No matter what happens, one of us is going to kill you. Like you could kill me. They couldn't kill me. They tried. Killin' everywhere. Take all the dead folks you want. We'll make more. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for us. What the fuck? Ma è assassinata? Scusa? You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still, what a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. Then it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Come on. Come on. Come on. Come on. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screwed up for everybody then. Why don't you? Calm down, princess. I'll do it myself. Minchia, che ansia. Oh, me fate respira un attimo. Io sono rimasta senza parole. Non badare a loro, sono fatti così. Non badare a loro, sono fatti così. Sta arrivando un temporale. We'll fix that shortly. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time. But you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Ciao. Scusate il silenzio, ragazzi, ma sono rimasta veramente basita. Punto 1, perché quella donna aveva preso il cappello di Clem e come? Punto 1. Punto 2, che diceva? È molto più sicuro quassù che laggiù. Perché? E punto 3, lui che le spara in fronte così. È vero che ci stava minacciando, per carità divina. Però, sono abbastanza interdetta, ragazzi. Non so che altro dire. Ok. E andiamo a salutare Clem, allora. Che dite, ragazzi? Che prima di uscire non l'avevamo neanche salutata. Come sta la mucca? Come sta la mucca? Ok, quindi c'è la mucca che sta per partorire. Vabbè, qua ci sono i vari scompartimenti, chiamiamoli così, del fienile. Abbiamo incontrato una donna nel bosco. Che vuol dire? Vabbè. Quando credi che mangeremo, allora? Quando credi che mangeremo, allora? Vabbè, va bene, 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 va bene. Riguardo la mucca non mi preoccupo troppo, tanto c'è comunque Caccia che è un veterinario e la tiene sott'occhio, sicuramente. Perché ci permette di aprire di qua? Ah, è proprio più la chiave, ok. Che cosa? Ah. La proteggerò. Questa caccia con Caccia, quale è il suo nome? L'ho segnato davvero forte quando arriviamo in. Ho sicuramente ho sentito un ruolo lì, lì. Cosa? Il mio punto è che abbiamo bisogno per sicuro. Quindi andiamo a trovare un pochino o qualcosa, e l'ho segnato in un pochino. Vabbiamoci a me, in caso di quelli i farmaci venivano. Vabbè, ragazzi, pensi a questo. Vabbè, lo scomparti, allora cosa se non è vero? Ok, quindi a Kenny puzza. Ha detto ha chiuso tutto a chiave quando siamo entrati noi. Perché? E quindi? Va bene, controlliamo il resto. Sto solo controllando il fienile. Allora, guardiamo il fienile qui. Non ho mai avuto a una farmaccia del fienile. Non vadoci senza me o Danny. La farmaccia può essere un paese pericoloso. Vabbè, i banditi e tutto. Scusate per il tuo amico. Hai, mi fa un favorito. Non f***ci con questa porta, ok? Vabbè, vabbè, mamma viene nervosa. Andrew, ho bisogno di tecchare. E perché? No problemi, giusto, doc. Niente, a Kenny la situazione puzza. Distrai Andy per farlo uscire dal fienile. Vediamo. Danny ha detto che gli serve qualcosa. Danny ha detto che gli serve qualcosa. Diceva che? Sì, non mi ricordo. Scusate. Allora, allora. Siamo riusciti a farlo uscire. Il punto è che non abbiamo un cacciavite. Dovremmo trovare un cacciavite, ragazzi. Ma ora dove lo prendo un cacciavite? Ah, Clem, ho il tuo cappello. Guarda, non mi chiedere come l'ho trovato e dove l'ho trovato. E' da un po' che non ci penso. Cioè, in una situazione del genere, credo sia l'ultimo dei pensieri, eh. Anche perché avere un neonato... In un mondo post-apocalittico con zombie? Sai com'è. Ehm, allora. Ma il cacciavite lo devo trovare qua dentro? In qualche modo? Magari hanno lasciato qualcosina qua intorno? No, sembrerebbe di... Cioè, uscire non mi fa uscire, ragazzi. Quindi forse dovrò trovare qualcosa qui. Vediamo un po'. C'è la mangiatoia. Non c'è niente di utile. Vediamo nell'ultima porta di qua. Magari c'è giusto quello che ci serve. Se il cielo ci aiuta. Guardiamo un po' qua dentro, ragazzi. Vecchie vestiti. E che ci fanno qua, scusa? Ah, infatti sono vecchi vestiti e delle scarpe. What the fuck? Perché lasciarli qui? Va bene. Proviamo ad aprire anche quest'altra porta, ragazzi. Ah, queste sono uguali alle scatole che abbiamo visto lì. L'accampamento. Ma non c'è altro, vero? Sembrerebbe di no. Questo è un guaio. Un grosso guaio. Non c'è niente di utile, ragazzi. Ma proprio una mazza. Una balla di fieno. Proviamo nell'ultima porta. Poi non so più che fare, sinceramente. Niente. Non c'è nulla. Che faccio? Forse posso uscire. Fatemi provare. Oh, shit! Ciao, Andy. Cazzo... Posso uscire, allora? Sì, posso uscire. Che bel guaio, ragazzi. Questo è un bel guaio. Però... Ok, usa il suo incredibile fascino. Comunque, qua fuori c'erano delle assi di legno. Non è che magari c'è una cassetta degli attrezzi. Eccola lì. La vedo, la vedo, la vedo già da qui, ragazzi. Eccola qua. Ci deve essere per forza un cacciavite. C'è sempre un cacciavite in una cassetta degli attrezzi. Quindi dovremo... Ah, forse questa. Possiamo usarla comunque. Sì. Sì, 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 sì. Perfetto, perfetto. A sto punto so curiosa, ragazzi. Scusate. Sto video forse durerà un pochettino di più. Ma voglio sapere adesso cosa c'è dietro quella porta. Perché l'ha chiusa a chiave con il lucchetto. Quindi ci toccherà distrarre di nuovo Andy. Danny ha di nuovo bisogno di qualcosa. E lui ci crede. E lui ci crede. Va bene. Benissimo. Buon per noi. Ok, è arrivato il momento di aprire. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, Kenny. Ok, facciamo questo. Ma come I'm back? Porca paletta. Kenny. Ho trovato un attrezzo molto chiuso. Ok, sì, ma Andy continua a tornare indietro. Scusa, eh. Porca paletta. Devo tornare fuori. Porca miseria. Miseriaccia maledetta. Lurida. Che pizza. Ok, ad averlo saputo prima. Il generatore. Vai, spegnilo un po', fa qualcosa. Cioè, anche se comunque spegnilo, non è che ci vuole tanto per riaccenderlo. Basta premere un bottone. Capite? Cioè, non è che ci vuole proprio tutto sto tempo. Ehi, Andy. Ehi, Andy. Ehi, questo thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Ecco. Niente. Vedete, infatti. C'ho ragione. Manco così basta. Porca miseria. Oh, e che gli devo fa? Forse devo manometterlo proprio. Ah, ecco, infatti. Benissimo. Se stacchiamo la cinghia. Ah, forse è meglio spegnerlo prima. Porca miseria. Meglio spegnerlo. Stacchiamo il tutto. Ecco fatto. Dovremmo aver risolto il problema Andy. Almeno mi auguro. Ehi. Ma ti calmi? Da quando è diventato così scurrile? Intanto io torno dentro, eh. Do un'occhiatina. Voglio sapere assolutamente cosa c'è dietro quella porta. Ok, ragazzi. È arrivato il momento della verità. Cosa ci sarà mai qua dietro? Ma mi state prendendo per il sedere? No. 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 Mom, dad, dinner time! It's dinner time! No! Ok, honey, let's get back. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. Ok, benissimo. Noi abbiamo l'occasione comunque di poter vedere cosa c'è dietro questa dannatissima porta. Quindi muoviti. Usa questo benedetto a fare. Su. Ok. Uno. Mamma che ansia. Uno alla volta ce la fanno togliere. Due. Tre. Oddio, non sto più nella pelle, ragazzi. Quattro. Fantastico. Adesso sì. Adesso sì. What the fuck? Oh, cazzo. Perché c'è così tanto sangue lì dentro? Perché c'è così tanto sangue lì dentro? Guarda, abbiamo la comida qui, ma Danny e noi abbiamo ancora bisogno di fare un'occasione per mantenere tutti. Quando ci troviamo qualcosa nel bosco, ci troviamo lì e ci troviamo lì dentro. Mamma non piace per noi fare una messa in casa. Quindi, guarda, non c'è nulla da preoccupare. Ok. Può avere senso. Può avere senso. Sì, però, perché chiuderla a chiave? Ho capito che non è un bello spettacolo, però... Cioè. Mi hanno fatto tutto sto casino per... Per niente. Alla fine è un posto dove scuogliano, insomma, gli animali. Li ammazzano, li preparano per cucinarli. Quello che è ci può stare. Io penso che ogni fattoria abbia un posto del genere. Ci può stare, ragazzi. Va bene. Ok. Ma aspettavo una verità incredibile. Certo, è stato uno spettacolo un po' raccapricciante, però niente di così assurdo. Va bene. Anche se, continua a dire, questi a me mi continuano a puzzare. Cioè, io non cambio parere su questa cosa, ragazzi. Quindi, fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Aspetto, come sempre, i vostri pareri. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Di obdoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Grazie a tutti.